Prima di iniziare con il video volevo ricordarvi di passare da Moddinglandia ragazzi se volete un account moddato a bassissimo prezzo Il nick ovviamente è dalla pagina facebook in descrizione quindi ragazzi detto questo vi auguro una buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krix e oggi ragazzi sono qui su G2Online per parlarvi del nuovo aggiornamento che sta per arrivare Più precisamente volevo analizzarlo appunto insieme a voi questo nuovo trailer e insomma ragazzi volevo insomma parlarne e approfondire qualcosa di più riguardo il trailer del nuovo DLC che sta per arrivare Come al saluto ragazzi prima di iniziare però vi invito a lasciare un mi piace a cui servire per supportarmi E oggi ragazzi doveva uscire il quarto episodio della serie di Ammazziamo Nabi su G2Online Ma purtroppo ragazzi per i problemi tecnici non ho fatto in tempo a registrarlo Quindi ragazzi detto questo direi che possiamo anche iniziare subito Allora ragazzi so che molti di voi hanno già visto il trailer che ha rilasciato qualche giorno fa la Rockstar E come molti di voi abbiamo visto ci sono veramente tantissime nuove novità che appunto ragazzi oggi andremo a approfondire insieme Quindi direi di partire subito dalla prima immagine che precisamente ho preso dal trailer e possiamo notare appunto già della roba Come ad esempio queste scatole qui che contengono alcune dei televisori altre delle merci di contrabbando come anche le pilule Possiamo anche notare nella prima immagine che c'è praticamente un televisore due scatole di televisore con appunto la scritta Ten Shung Quindi molto probabilmente sarà una parodia della Samsung Possiamo anche vedere i magazzini che si potranno acquistare sia nel secondo screen che nella terza immagine come appunto state vedendo in questo momento E diciamo che questi magazzini secondo me saranno acquistabili diciamo ad un prezzo abbastanza ragionevole dove appunto potremo tenere la nostra merce Quindi ragazzi diciamo che con questo nuovo aggiornamento appunto si potranno fare soldi comprando e come anche appunto vendendo la merce che potremo tranquillamente depositare nei nostri magazzini Poi passando alla seconda immagine qui si può notare praticamente due persone, due giocatori che praticamente impugnano un'arma Ecco la cosa che mi è saltata all'occhio è secondo me quest'arma che sta impugnando il personaggio alla mia sinistra Che sembrerebbe essere una specie di carabina però da quel che si vede dall'immagine sembra più che altro una nuova arma Quindi una specie di fusione tra la carabina e l'MG da combattimento Quindi secondo me ragazzi oltre alle nuove auto e tutto potremo anche avere una nuova arma che appunto è quest'arma qui che stai vedendo nello screen In ogni caso fatemi sapere voi ragazzi se mi sto sbagliando o se comunque sia è come la penso io Passando però alla prossima immagine ragazzi si può vedere benissimo un'organizzazione che è appena scesa da un aereo E questo aereo ragazzi che si vede praticamente nello screen sembra essere un nuovo aereo che probabilmente potremo acquistare per diciamo i nostri affari E sarà disponibile sicuramente nel sito di insomma del sito degli aeree ecco adesso non ricordo come si chiama Però comunque sia non ho mai visto diciamo un aereo che poi si può anche notare dal timone che non è il Buckingham Luxor Quindi ragazzi molto probabilmente avremo un nuovo aereo e questo aereo che avremo sarà appunto questo aereo che starei vedendo nello screen Possiamo anche notare alla sua sinistra un'auto che sembra essere una specie di insomma della nuova auto ragazzi della Enus Wynesor Quindi sembra essere appunto diciamo una sorella e molto probabilmente avremo anche questo auto disponibile nel gioco Come anche appunto nei servizi del insomma dei servizi boss ecco dell'abilità boss E quindi niente secondo me abbiamo questo nuovo aereo e diciamo che questo aereo servirà principalmente per consegnare la match Come anche appunto la droga e tutte le altre roba che avremo appunto nei nostri magazzini Passando però alla prossima immagine ragazzi possiamo benissimo notare la nuova Pegasi Reaper con i suoi cerchioni di serie E da notare ragazzi diciamo la carrozzeria di quest'auto come anche le linee e le curve Sembra essere più o meno ragazzi una fusione tra la Lamborghini Huracan e la Lycan Hypersport Infatti ragazzi si può benissimo notare l'anteriore della Lamborghini Huracan e diciamo le curve posteriori Quindi diciamo il posteriore come anche appunto la presa d'aria alla mia destra appunto vicino alla portiera Sembra essere più o meno un riferimento alla Lycan Hypersport E quindi niente questa nuova auto quindi ragazzi la Pegasi Reaper è stata confermata Devi passare subito alla prossima immagine dove troviamo praticamente questa nuova auto verde Con i fari diciamo diciamo in punta ecco in punta del paraurti anteriore E ho fatto delle ricerche su Google ragazzi dopo l'uscita del trailer E ho scoperto che praticamente quest'auto è un incrocio tra il Porsche 918 Coupé e la Ford GT Infatti si può benissimo notare ragazzi come il posteriore di quest'auto sia stato ispirato alla Ford GT In quanto sia la Ford GT che quest'auto sono totalmente piatte insomma del posteriore E si può benissimo notare la presa d'aria che possiede anche il Ford GT insomma sulle portiere ecco al diritto delle portiere E poi inoltre ragazzi davanti si può notare appunto anche la presa d'aria del cofano proveniente sempre dalla Ford GT Per quanto riguarda la Porsche 918 R diciamo che il design più o meno è la stessa cosa Ecco si sono ispirati sia alla Ford GT diciamo in gran parte alla Ford GT e in minor parte alla Porsche 918 R Quindi ragazzi molto probabilmente quest'auto sarà di marchio Grotti o forse di marchio Inventero ragazzi non si sa però Staremo a vedere la Rockstar insomma cosa ci avrà diciamo messo in come dire in dubbio ecco insomma cosa ci riserverà Comunque sì ragazzi anche quest'auto sembra essere veramente molto molto figa e sicuramente sarà di marchio Super O meglio di categoria Super Passando poi alla prossima immagine ragazzi si possono benissimo notare le due nuove auto Quindi la Reaper e diciamo questo incrocio ecco chiamiamola Ford GT ecco questo nuovo Ford GT Insieme appunto e davanti a tutto c'è una nuova auto che molto probabilmente sarà di categoria sportive In cui si può benissimo notare un grandissimo riferimento alla Ferrari California In quanto appunto sia la Ferrari California che appunto questa nuova auto di marchio Grotti hanno più o meno lo stesso intercooler sia davanti che appunto le prese d'aria sul cofano Ad ogni modo ragazzi vi lascerò anche un'immagine della Ferrari California per farvi capire appunto la comparazione fra i due veicoli E quindi netto diciamo che quest'auto sarà diciamo la sorella della carbonizzare possiamo dire Infatti secondo me avranno lo stesso motore come anche appunto quasi le stesse modifiche eccetto qualche spoiler e qualche paraurti Ad ogni modo staremo a vedere la Rockstar cosa ci avrà riservato per quanto riguarda le modifiche Passando a provare la prossima immagine ragazzi si può benissimo notare l'edificio della Mates Bank e c'è scritto acquista prestigiosi uffici Ciò sta a significare ragazzi che molto probabilmente potremo acquistare un edificio all'interno della Mates Bank Dove appunto potremo pianificare e insomma vendere la nostra merce appunto nel giro di Los Santos Infatti si può benissimo notare ragazzi in questa immagine come anche nella prossima immagine Che ci sono praticamente quattro tizi seduti e c'è una mappa più o meno all'interno ecco sul tavolo Una mappa 3D di GTA Possiamo anche notare benissimo alcuni punti, alcuni punti rossi Che probabilmente saranno ad indicare dove praticamente potremo smistare la nostra merce Quindi ragazzi anche questa sarà un'innovazione veramente molto molto diciamo abbastanza figa Un'altra cosa che mi ha colpito all'occhio ragazzi è questo screen possiamo dire Ecco questo screen sempre questa immagine presa dal trailer In cui si può benissimo notare una persona, una donna possiamo dire E qui c'è scritto sull'immagine assumere l'assistente personale Ciò sta a significare ragazzi che molto probabilmente Oltre ad avere un nostro ufficio e un nostro magazzino dove poter depositare la merce Potremo anche diciamo assumere un'assistente personale Per appunto insomma una specie di segretaria Ecco potremo assumere una segretaria ragazzi E staremo a vedere quali funzioni ci riserverà la segretaria Per quanto riguarda appunto i nostri uffici Passando per la prossima immagine ragazzi si può vedere sempre appunto un ufficio Come anche appunto nella prossima Infatti qui si può notare veramente un ufficio molto molto lussuoso Si possono notare anche dei soldi sparsi sul tavolo Diciamo sul tavolo del tizio che sta praticamente lavorando al computer E andando ad approfondire questa immagine si può benissimo notare anche Che nell'immagine del computer ci sono gli stessi punti rossi Di cui praticamente abbiamo visto in un'immagine precedente Quindi sta a significare ragazzi che forse potremo vendere diciamo la roba anche online Quindi smistare come anche ordinare la merce online Per poi appunto venderla e smistarla nei nostri magazzini E venderla per insomma per la mappa di Los Santos Andando poi ad analizzare la prossima immagine ragazzi si può benissimo notare Un elicottero, un nuovo elicottero La forma sembra essere diciamo appunto un nuovo elicottero In quanto sembrerebbe essere un Buckingham Swift Però come si può vedere da questa immagine le forme sono veramente molto molto diverse Come anche il design di questo elicottero E sembrerebbe essere ragazzi uno di quei elicotteri da guerra Insomma quelli lunghi però comunque sia questo qui non sarà da guerra ma sarà abbastanza lussuoso Speriamo che non costerà tanto ragazzi Speriamo che sarà richiedibile dell'abilità del boss Passando però alla prossima immagine ragazzi si può benissimo notare una barca E questa barca ragazzi è praticamente su GTA 4 era possibile guidarla Mentre su GTA 5 non è stata ancora introdotta fino all'arrivo di questo nuovo aggiornamento Infatti ragazzi su GTA 4 questa barca si chiamava la Chiatta mi sembra Insomma era una barca usata insomma per cazzeggiare Ecco parcheggiata lì alla costa, a largo della costa E noi con i cobelli che appunto potevamo salire sulla barca e andarla a poterla a guidare E se facesse il solito oro in GTA 5 ragazzi questa barca Secondo me ci sarà veramente molto molto da divertirsi In quanto questa qui è una barca usata più che altro per cazzeggiare E quindi esplorare la costa di Los Santos in tutta tranquillità Nonostante appunto sia una barca troppo arrugginita E insomma lentissima possiamo dire Quindi non c'è molto da dire su questa barca Se non che appunto potrà fare il suo ritorno in GTA 5 Passando però alla prossima immagine ragazzi si può benissimo notare delle armi Delle armi che la posizione di queste armi o meglio lo sfondo ecco possiamo dire Sembra essere lo stesso delle rapine Voglio dire che appunto sembra essere diciamo lo stesso posto dove Nei nostri appartamenti appunto andando nella stanza di pianificazione dei colpi Si può benissimo notare più o meno lo stesso design Le stesse armi e i stessi pacchi Quindi secondo me ragazzi questa qui è un'immagine che secondo me non c'entra con il DLC Però comunque sia avremo più o meno uno spazio simile anche nei nostri magazzini Per quanto riguarda appunto le armi insomma per poter depositare appunto nei nostri magazzini Passando però alla prossima immagine ragazzi si possono benissimo notare dei soldi Dei soldi e dietro possiamo notare una copertura blindata Come anche alla sola destra Una porta appunto blindata E secondo me ragazzi questa più o meno diciamo questa cassaforte Si sarà appunto all'interno dei nostri uffici Dove noi appunto inserendo un codice o secondo me sbloccandola Collegando appunto il nostro smartphone e facendo quella cosa dell'IP e poi della password Appunto potremo avere accesso alla cassaforte e quindi depositare i nostri soldi Che avremo fatto smistando la merce e vendendo roba e cose così Quindi ragazzi secondo me questo DLC promette veramente molto molto bene Passando poi a una delle ultime immagini si può benissimo notare un Cargobob Un Cargobob di una colorazione veramente molto molto particolare Che trasporta un container della Trift X Scusate la pronuncia ragazzi Comunque parlando del Cargobob Qui in questa immagine si può benissimo notare che il Cargobob è veramente È una specie di V2 del Cargobob In quanto questo Cargobob rosso appunto sembrerebbe essere una colorazione del Cargobob Però secondo me questo qui ragazzi sarà acquistabile Perché appunto il design è veramente diverso dal Cargobob che conosciamo noi Quindi ragazzi secondo me questo Cargobob ci servirà più che altro per le nostre missioni da boss Infatti ragazzi a fine trailer c'è scritto che appunto con il boss Essendo boss ci saranno altre missioni aggiuntive Che potremo appunto fare in free mode con la nostra organizzazione o comunque sia anche da soli Quindi ragazzi questo nuovo Cargobob staremo a vedere alla Rockstar cosa succederà Insomma dove lo metterà e se appunto sarà disponibile nell'abilità del boss Un'altra immagine che mi ha colpito ragazzi è praticamente questa immagine qua Dove praticamente si può notare un specie di camion della spazzatura Infatti si può benissimo notare che non è il Thresh Master che siamo abituati a conoscere Ora se l'occhio non mi inganna dovrebbe essere un furgone blindato Però ragazzi guardandola dalla forma e insomma diciamo guardando il design di questo bus O meglio di questo camion Si può benissimo notare che è un camion della spazzatura E molto probabilmente invece che usarlo per la spazzatura Verrà usato per poter appunto tenere la nostra merce Come anche appunto la nostra droga che potremo trasportare liberamente per lo Santos Appunto all'interno del retro di questo camion Fatemi sapere voi nei commenti se secondo voi è un blindato o un camion della spazzatura Ad ogni modo ragazzi io dico che è un camion della spazzatura E sarà acquistabile dal sito di Warstock e Keysha e Carry Per appunto poter fare le nuove missioni da boss che verranno appunto introdotte con questo nuovo aggiornamento Ragazzi non c'è molto da dire su questo DLC In quanto tutte le immagini di cui ve ne ho parlato appunto le potete trovare insomma qui nel video Quindi ragazzi non c'è molto altro da dire Il video sta per terminare Quindi ragazzi vi ricordo che questo DLC uscirà il 7 giugno 2016 E uscirà più o meno di mattina come la Rockstar appunto fa di suo Fa uscire aggelamenti di martedì mattina Quindi niente ragazzi fatemi sapere la vostra fra i commenti Vi citeremo appunto a fare un'analisi completa di questo nuovo DLC Lo so che il video è uscito abbastanza lungo ragazzi Ma se bisogna fare un'analisi insomma se bisogna fare un video fatto bene Allora facciamolo coi controcazzi Quindi ragazzi detto questo qua da Cricks è tutto Io spero che il video vi sia piaciuto Che vi abbia trattenuto Che vi abbia portato qualche informazione e più In tal caso mi invito a lasciare un bel mi piace se è stato così Vi ricordo ragazzi che in descrizione trovate Facebook, Instagram e Twitter Quindi seguiremi su tutti i social Che ovviamente trovate nella descrizione di questo video E quindi ragazzi detto questo vi ricordo anche di entrare nel mio canale di Telegram Ovviamente il link è nella descrizione Quindi ragazzi detto questo io vi saluto, vi ringrazio E come al solito noi ci vediamo al prossimo video BALAVATIUUUUUUUUU Grazie a tutti